Sta bene, non ha avuto complicanze, il decorso del ricovero è stato normale, come anche comunque gli altri casi che sono stati descritti nel resto del mondo. Si parla quasi di 200 casi e nessuno per fortuna si è complicato. Dopo 11 giorni di ricovero all'ospedale San Donato di Arezzo oggi torna a casa il 32enne Aretino affetto da vaiolo delle scimmie. Quello a Aretino è stato il primo caso riscontrato in tutta la Toscana. L'uomo era risultato positivo il 20 maggio scorso al rientro dalle isole Canarie. Adesso per altri 7 giorni resterà in isolamento domiciliare. Per le malattie infettive in generale sono previste delle situazioni di isolamento, vedi la tubercolosi, la varicella o altre e verrà rivalutato dal nostro staff tra 7-8 giorni per vedere che siano cadute completamente le croste e allora a quel punto verrà dichiarato guarito e non più contagioso. Per due persone un amico ed il medico del 32enne dopo la diagnosi era scattata la sorveglianza. Ad oggi non hanno sintomi, non hanno nessun disturbo, non hanno lesioni per cui il contatto o non è stato così efficace nella trasmissione o in parte, come è stato detto, essendo due persone che comunque hanno fatto il vaccino per il vaiolo possono essere state protette dallo stesso vaccino. Dunque per il momento attenzione ma no agli allarmismi. Ovvio che è una malattia che va attenzionata come tutte le zoonosi perché potrebbe magari succedere qualcosa e farla esplodere. Siamo, come dire, più tranquilli rispetto al Covid perché si tratta anche di un virus a DNA che non muta rispetto ai virus RNA tipo il Covid o l'HIV. Anche già un vaccino? Sì, assolutamente sì. Per il momento non è stato deciso di utilizzarlo perché comunque i casi sono pochi. Esistono delle strategie vaccinali potenziali che potremmo mettere in atto nel caso in cui dovessero aumentare in un numero preoccupante i casi.